Sulla tua parola. Contro ogni evidenza logica, Gesù chiede a esperti pescatori che erano stati a largo tutta la notte e avevano faticato senza portare a casa nulla, di uscire di prima mattina a pescare. Pietro è anche molto gentile nel tentare una debole resistenza e obiezione a Gesù, probabilmente di aver pensato, Signore sì tu sei bravo, predichi bene, racconti belle parabole, sei bravo con i malati, con i bambini, con le donne, ma sulla pesca proprio, lascia perdere, non è il tuo mestiere. Allora come è stato possibile che persone abbiano lasciato la sicurezza della loro esperienza per affidarsi all'assoluta mancanza di sicurezza sulla parola di Gesù? Cosa li ha spinti a fidarsi fino a questo punto di lui? Per loro si è trattato di gettare le reti senza immaginare dove li avrebbe condotti l'aver riposto la fiducia in lui. In fondo la condizione della barca è un po' la nostra condizione, anche noi siamo su quella barca e quando le esperienze di vita, il nostro vissuto, le nostre competenze ci portano a dire so io come va a finire, come finisce questa cosa, questo affare, questa situazione, non immaginiamo che ci possa essere anche un'altra strada, un'altra visione delle cose. Crediamo in definitiva che tutto dipende da noi, in realtà le nostre responsabilità non esauriscono mai la vita, la storia, proviamo a gettare la luce della parola del Vangelo sulle nostre vicende, sulle nostre relazioni, su quanto abbiamo deciso che sia del tutto chiuso, finito, infruttuoso, che consideriamo ormai sterile. Fidiamoci della parola di Gesù che ci dischiude nuove possibilità, fidiamoci di Lui. Seguire Gesù vuol dire legarsi a Lui, non è semplicemente aderire a un'idea, a una dottrina, a una generale conoscenza religiosa, ma stabilire una comunione con Lui, con la Sua persona, con la Sua parola.